Musica Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con la nostra rubrica Dillo a Schittulli. Il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, è già pronto a rispondere alle vostre domande. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. Potete chiamarci allo 080 501 9998 per intervenire in diretta oppure scriverci una mail all'indirizzo di lo scritto di chiocciolatelebari.it. Iniziamo con i commenti. In verità, lo abbiamo già anticipato la scorsa settimana, lunedì, però i seggi erano in chiusura nel momento in cui andavamo in onda. Quindi oggi possiamo sicuramente commentare, tra l'altro una settimana, dal risultato dei balottaggi in quattro comuni della provincia di Bari, che ci consegneranno il sindaco. Però ne volevo da lei un commento più ad ampio spettro, soprattutto per quei capologhi più importanti. In primis ovviamente stiamo parlando di Milano, che vedranno la competizione al ballottaggio tra centro-destra e centro-sinistra. Insomma, qual è la sua chiave di lettura di questi risultati? Intanto c'è una presa di posizione da parte del popolo, nel senso che c'è uno stato di difficoltà da parte del centro-destra che si è ripercorso poi con questo voto. Quindi questo secondo me è fuori dubbio. Nella nostra realtà diciamo che il centro-destra tiene, anzi conquista qualche comune, così come avevo detto, ed è probabile anche che si raddoppino i comuni, ma è una piccola cosa rispetto all'andamento nazionale. Bisogna vedere soltanto il numero degli elettori che hanno lasciato il centro-destra, che credo sia significativo, e del perché l'abbia lasciato, sia temporaneamente, con tutte le giustificazioni che si vogliono adottare. Beh, quel che è certo è che guardando i risultati a livello nazionale, ma anche a livello locale, possiamo dire che al momento la competizione elettorale si è chiusa senza vincitori né vinti. Però quel che è certo è che un'amministrazione uscente dovrebbe avere sempre un qualche punto di vantaggio rispetto al neocandidato. Forse per questo pesa maggiormente la sconfitta, possiamo definirla, del centro-destra, che inizia a fare forse ammenda delle proprie responsabilità. Rispetto alla domanda di perché il centro-destra stia perdendo forse qualche elettore, lei a cosa lo imputa? Ma io credo che bisognerebbe fare una rivisitazione completa dell'andamento politico. Io personalmente ho molta difficoltà, non riesco a trovarmi in mezzo a quest'onda, perché noto questo, noto che l'insulto è libero, la slealtà è rassi quotidiana, il volta faccia è un optional quotidiano, mancano le regole, manca anche il rispetto della dignità della persona umana, vengono meno i valori, quindi cade tutta l'impalcatura anche dell'ideologia e questo non è a favore di una politica con la P maiuscola e quindi ho difficoltà a resistere. Mi sembra di capire che per lei, volendolo concentrare in un principio macchiavelico, il fine non giustifica sempre i mezzi, nel senso che la politica forse dovrebbe lasciarsi andare anche a qualche principio che chiamano in causa la dignità, la lealtà che non sempre possono essere macchiate dal raggiungimento di un determinato scopo e quindi da raggiungere con ogni mezzo. Ma non è che il fine giustifichi i mezzi, perché se il fine fosse quello di far star bene la gente io potrei anche capirlo, ma qui le problematiche delle persone, il vivere quotidiano, della gente non viene affrontato e non viene quindi risolto, quindi è un rinvio di queste problematiche e i mezzi adottati sono tutt'altro che comprensibili per quanto mi riguarda, perché non si offrono prospettive, aspettative, noi invece dobbiamo dare speranza, ma la speranza poi deve seguire certezza, la speranza è una cosa bella e come tutte le cose belle non dovrebbero mai morire, ma per non far morire le speranze siamo chiamati ad una responsabilità maggiore a dare delle risposte, se questo non accade noi veniamo meno a quella disponibilità che dobbiamo avere politica anche. Intanto vediamo che prima di parlare dei balottaggi, di come si stanno organizzando gli eventuali apparentamenti in alcuni comuni del Baresa c'è una mail sempre sul tema ed è di un terrespettatore che le chiede, la sconfitta su Trigiano ha suscitato in lei riflessioni sulla bontà del candidato sindaco, ricordiamo che a Trigiano lei ha puntato su una donna, la Dinoia, che aveva candidato sindaco con il movimento Schituli, non ce l'ha fatta, che riflessione le ha stimolato questo risultato? Ma intanto ho registrato e lo confermo ancora una volta una slealtà palese da parte del centro-destra, nel momento in cui si dà la propria adesione, beh l'adesione deve essere completa, deve essere totale, non può essere dimezzata o parziale, altrimenti uno onestamente non la dà. Io poi ho puntato in effetti facendo delle forti privazioni e anche violentandomi su altre realtà comunali, ma per il bene comune davvero e ho pensato di candidare la consigliera provinciale Anita Mauro di Noia perché era stata la maggior suffragata, era la prima degli eletti e una donna e quindi vedevo lì l'opportunità reale di poter candidare una donna vincente, anche perché aveva registrato una adesione molto ampia con tante liste, follie di liste aderenti. A questo non è seguito poi quella lealtà, quella onestà comportamentale. Sono deluso da questo aspetto, non dalla sconfitta, perché egoisticamente se io fossi davvero un uomo di partito direi, beh comunque io sono stato il secondo partito lì dopo il PD, anzi a pochissimi voti dal PD, sono il primo partito assoluto del centro-destra, in tutti i comuni dove ho presentato il mio logo, complessivamente è un logo nuovo, fresco, di un anno e mezzo, mi sono classificato al secondo posto di tutti i partiti del centro-destra, quindi sarei soddisfatto, invece non è così. Può essere che sia stato proprio questo che abbia fatto storcere il naso al PDL, cioè il fatto che abbiano visto il Movimento Scrittulli come un'interferenza nei confronti degli elettori di centro-destra? Mi chiedo in questo se fosse così, perché non è accaduto un anno e mezzo fa quando mi chiesero di scendere con il mio movimento, ma se io non fossi loro gradito, possono chiedermi le dimissioni subito e le avranno subito. Lei l'ha sempre detta questa cosa, ha affondato i motivi di ritenere che effettivamente non è più gradito al centro-destra? Io sono un uomo libero, rispetto alla collocazione dove mi trovo, ho sempre detto di essere funzionale al centro-destra, ma non sono servile e non appartengo alla categoria degli yes-men pronti a voltare la faccia all'indomani del scioglimento per un motivo qualsiasi della loro ideologia, diciamo così. Andiamo invece, concentriamoci su un altro comune, non so vogliamo dirlo, che è il comune di Ruvo, dove è accaduta una cosa abbastanza singolare, che l'ha fatto sobbalzare dalla sedia, nel senso che c'era, lo ricorderete, l'assessore della provincia di Bari, costretto alle dimissioni, Paparella, magari prima di concentrarci su questo argomento prendiamo una telefonata e poi avremo modo di sviscerarlo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Senti, io volevo parlare con lo tuo Schittulli. Sì, sì, prego. Posso parlare? Sì, sì, è qui per questo, l'ascolta. Ecco, grazie. Io ho un problema, e vorrei dei consigli, un problema per il fatto dell'agenzia delle entrate. Sì. Quindi, sono una persona separata, con un assegno mensile di 350 euro. Sì. L'agenzia delle entrate mi ha mandato da pagare, vuol dire, che paghi 600 euro all'anno di tasse. Sì. Quindi ho avuto due cartelle di 600 euro, e sarebbe due volte, nel 2004-2005, da pagare 1200 euro. Io vorrei sapere come mai con solo 350 euro non si sopravvive, certamente, neanche con 500 si sopravvive. come mai devo pagare le tasse? E che tasse? È una bella somma, 600 euro all'anno. Sì, indubbiamente. Certo, con così poche notizie è un po' difficile poter esprimere… No, è tutto, non sono poche notizie, questo è tutto. Io ho solo, percepisco, ed è scritto sulla cartella, che ho 4200 euro all'anno, ma solo per l'assegno di mantenimento. Sì. E niente altro, io non ho nient'altro. Perché dovrei pagare 600 euro di tasse all'anno? Lei non ha altre entrate? No. Lei non ha mai fatto è nulla barna. Lei non ha avvato, neascito debatt fixed Siri. Lei non ha mai detto tutto, niente scopoina risp foremostale.